Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi parliamo dei mercati azionari, hold, andiamo a vedere cosa sta facendo lo Standard & Poor's 500 e il Nasdaq 100 sui mercati e il perché nella giornata di oggi hanno iniziato una fase di bassista. Oh, da un po' di tempo ho iniziato a ragionare sul perché le borse hanno iniziato questa fase di enorme rialzo, ragazzi, totalmente inaspettata dopo la crisi covid, una serie di idee che riprendono anche il mio video, quello che ho fatto e se vi ricordate quello relativo ad esempio al metodo come calcolare se una borsa era o meno in economico o meno, quindi la valutazione. Ho ripreso quel modello, ho fatto una serie di conclusioni, sto aspettando un po' di avere ancora qualche segno dal mercato e poi vi farò un video recap con un bellissimo modello di spiegazione del perché di questo rialzo con dati quantitativi, ragazzi, come sempre e faremo le nostre conclusioni. Oggi invece parliamo di analisi tecnica e analisi ciclica sui mercati hold e cerchiamo di capire questa fase di ribasso della giornata di oggi, in questo momento sta un po' ritracciando soprattutto il Nasdaq e attesa o non attesa e soprattutto può essere considerata un'occasione di acquisto per un'immissione di nuova liquidità, per esempio un famoso buy the dip, ragazzi. Quindi ho detto benissimo, facciamo queste considerazioni perché io credo che in tanti in questo momento stanno cercando dei punti di acquisto per quanto riguarda il mercato azionario, andiamo a vedere se oggi è un buy the dip e ci spostiamo sui grafici, vediamo subito Nasdaq e S&P 500, vi farò anche l'analisi ciclica, ragazzi, via, dietro le mie spalle già lo vedete, il grafico in questione del Nasdaq, ragazzi, allora il Nasdaq 100, titolo americano dell'indice americano, ha toccato i massimi storici. Nella giornata di ieri, ragazzi, aveva fatto questa candela, una Morning Star, che è una candela di massimo, praticamente, è una candela di inversione con massimo toccato, è una candela anche estremamente pericolosa, perché? Perché ragazzi è vicino a un massimo storico, come vedete il Nasdaq ha questo massimo storico intorno ai 9.800, 9.770, ma nella giornata di ieri è arrivato, vedete, qui a questi massimi 9.604, poi ha ritracciato in maniera abbastanza violenta facendo un doppio massimo relativo, ragazzi, molto vicino, quasi un doppio massimo, non è precisamente così, ma ha anche un trend leggermente ribassista che, perché no, può essere considerato pericoloso, quindi in questo momento questa Morning Star, vedete, inizia a dare un segnale un po' bruttino, un segnale bruttino perché, ragazzi, anche in altre crisi molto forti i mercati americani avevano fatto questo rialzo, questa fase rialzista e poi avevano effettivamente fatto una specie di doppio massimo e poi ha iniziato a ritracciare e sono scesi parecchio. Io non credo sia così in questo caso, ma vedremo anche il perché, insomma, lo vedremo nei prossimi giorni. Da un punto di vista di analisi tecnica, quindi, un break di quelli che sono i minimi di questa candela, ragazzi, hanno causato questo momento ribassista che vedete, che si sta andando ad appoggiare le mie medie mobili esponenziali. Allora, in questo momento, questa fase di ribasso ci sta tutta, ragazzi, anche perché siamo sui massimi, il mercato prende fiato, nulla di anomalo. Dov'è il primo punto da tenere d'occhio per quanto riguarda Nasdaq 100 per capire se effettivamente c'è pericolo che il mercato inverta nel breve periodo, questo trend rialzista, dobbiamo andare al di sotto degli 8800 punti per quanto riguarda Nasdaq 100. Quindi, fin tanto che, ragazzi, questo livello qui che vedete non viene breccato, adesso vi cambiamo colore, lo mettiamo verdino, fin tanto che questo livello non viene breccato, nulla cambia per quanto riguarda il mercato tecnologico americano che resta in bull trend, molto forte, molto imponente, ragazzi, e quindi dobbiamo prendere atto di questo, anche se magari le attese erano differenti, ma ne parleremo in questo video che sto preparando. Allora, per quanto riguarda invece l'analisi ciclica, c'è da fare il punto della situazione. Adesso vediamo l'analisi ciclica sul Nasdaq e l'analisi ciclica sull'SP500, perché, ragazzi, l'analisi ciclica in questo frangente è molto molto utile. Guardate qui, allora, in questo momento, ragazzi, questa fase di ribasso del Nasdaq potrebbe essere una fase di chiusura di un ciclo che solitamente fanno gli indici americani intorno ai 60 giorni, 60-65 giorni. Per quanto riguarda il Nasdaq 100, ragazzi, vedete che nella giornata di oggi siamo intorno a 65 giorni, però devo essere sincero, le precedenti fasi cicliche che vedete qui, adesso provo a darvi una forma, vedete in questo momento, queste sono le fasi cicliche che sta effettivamente sviluppando il Nasdaq e sono più o meno intorno ai 60 giorni, un po' più piccole dei 60 giorni, quindi non sono proprio 65, ragazzi. In questo caso potremmo anche aver chiuso questa fase, vedete qui, a 51 giorni. Ora, sono sincero, per quanto riguarda questa fase il mercato non ci lascia molto spazio per comprendere se effettivamente il ciclo in questione, questi cicli che fanno gli indici americani da 50-60 giorni sia stato chiuso qui oppure sia da chiudere nelle giornate che vengono. Io personalmente, se vi ricordate, tempo fa vi avevo parlato di scadenza di fine maggio per quanto riguarda questa fase, che poteva essere effettivamente un momento di respiro dei mercati, così sta avvenendo sul Nasdaq un po' di meno sull'SP500, adesso andremo anche a vedere un po' perché. Quindi è possibile che ci sia una fase ciclica in conclusione per quanto riguarda Nasdaq 100 in questi giorni, mentre per SP500 no. Perché SP500, adesso ve lo mostro ragazzi, dove è arrivata? Allora, SP500 sembra, sembra un po' aver chiuso la sua fase sul minimo del 14 maggio ed essere già rientrato in una fase completamente diversa. Allora è un po' corta ragazzi, sono sincero, è un po' corta perché? Perché quando il mercato fa fasi up così forti, la fase ciclica di un mercato che dura un po' di meno del previsto, dovrebbe durare interna ai 60 giorni e siamo a 52 qui al 14 maggio, insomma un po' lascia a desiderare. Però c'è da dire questo, che cosa che non abbiamo sul Nasdaq ragazzi, vedete qui la sequenza dei minimi per quanto riguarda SP500, la sequenza dei minimi è di natura ribassista, vedete? 1, 2, 3, quindi ha fatto due massimi decrescenti, due minimi decrescenti, indicando in pratica una close di un ciclo o comunque un mini 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 trend ribassista ragazzi, trend che è stato poi invertito nelle giornate precedenti, scorse, quando è stato breccato questo livello, lo vedete qui. Nel momento in cui avviene una cosa del genere, sono sincero, devo applicare la teoria ciclica, verteria ciclica ragazzi, a questo punto io dico che su questo minimo del 14 maggio SP500 ha chiuso il suo ciclo da 50 a 60 giorni, quindi siamo già nel nuovo per quanto riguarda SP500 e questo mi viene confermato anche dal break di questi massimi ragazzi, i massimi che erano stati fatti nel mese di aprile. Massimi rotti nella giornata di ieri e sono in fase di pullback che vedete in questo momento, questo non è un livello di supporto resistenza che io ritengo estremamente importante in questo momento, quindi lo dipingevo con un colore più leggerino. Perché ragazzi? Perché questa è una fase semplicemente di oscillazione probabilmente del prezzo che si ha trovato un livello importante, ben diverso da un punto di vista di livello tecnico i 3000 punti, 3000 punti che sono una resistenza notevole fondamentale per SP500, perché vedete qui ragazzi, da un punto di vista di oscillazione guardate quanto tempo ci ha speso sotto i 3000 punti ed è importante considerarlo, il mercato nella giornata di ieri è andato a toccare in pratica quella che è una resistenza fondamentale e a quel punto, solo a quel punto ha preso un po' di fiato. La resistenza a 3000 punti ci sta ragazzi questo ribasso, poi parliamo di un meno 0,4 per SP500, perciò io direi di sposare una duplice fase ciclica, SP500 ha già chiuso il suo ciclo a 60 giorni, Nasdaq secondo me può farlo in queste giornate, lo sta facendo adesso. È possibile questa cosa, se vedremo magari il Nasdaq 100 andare a scendere un pochettino al di sotto di queste medie, magari andare ad avvicinarsi al suo livello di supporto 8008, allora questa cosa sarà ulteriormente confermata. Questo per quanto riguarda l'analisi ciclica e l'analisi tecnica della borsa americana dei mercati azionari, allora tiriamo sulle nostre conclusioni fondamentali. Questo livello di ribasso per Nasdaq 100 è un buy the dip, sì o no? Ragazzi, sì è un buy the dip in questo momento. Ovviamente quando, dove, come sta nella tecnica di trading del trader, ragazzi. Io aspetterò la fase di chiusura ciclica che potrebbe avvenire a momenti e quindi mi posiziono con delle tecniche di ingresso, di breakout sui time frame più piccoli del daily per entrare sulle mie posizioni perché sto iniziando a fare una serie di investimenti anche in questo mercato, ve lo avevo un po' accennato, sono poco esposto sul mercato azionario, ho fatto giusto degli interventi su delle stocks che ritengo estremamente profigue, valide in questo momento però è il Nasdaq, ragazzi, mi interessa. Mi interessano due o tre titoli anche all'interno del Nasdaq 100 e in questo momento quindi io lo valuto in versione trading. Perché in versione trading, ragazzi? Perché il Nasdaq è ritornato sui massimi storici, quindi andare qui a fare di nuovo position per lunghissimo periodo non so, la vedo un po' rischio setta. In questo momento io sono un trader già formato con le basi, ragazzi, uso le mie conoscenze per rischiare il meno possibile. Però la risposta è buy the dip per quanto riguarda Nasdaq sì e anche per S&P 500 perché su SP, ragazzi, vi faccio vedere se siamo già sul nuovo ciclo ancora c'è spazio per crescere. Quali sono i livelli di S&P, ragazzi? Allora questo 3.000 fa da sparti acqua e se SP non supera i 3.000 allora andiamo in alert immediatamente. Se SP supera i 3.000 ragazzi ha spazio di salita perché il primo livello sarà poi questi che vedete qui ma sono livelli un po' più piccolini e la vera resistenza poi è 3.000 e 2 circa che è questa qui. Adesso vi cambio anche questa e ve la indico in maniera più consistente. Ok? Allora questa è poi una resistenza quindi lo spazio di crescita di SP500 superati i 3.000 se lo fa e notevole ragazzi può fare questo prima di andare magari a chiudere il suo ciclo in questo modo. SP500 quindi è un'occasione di acquisto in questi ribassi sempre ricordatevi che non sono consigli finanziari sì io utilizzo sempre le mie tecniche di trading mentre sul Nasdaq fate un po' più attenzione perché se dovesse effettivamente andare in chiusura del suo ciclo intorno ai 50 e 60 giorni siamo già a 65 siamo un po' oltre potrebbe farlo già nella giornata di domani o già in questo momento però lo ritengo comunque un buy se ci sarà un'inversione nel breve periodo. Questo è quello che ci stanno dicendo i mercati americani sugli europei è arrivato in questo momento la scelta del recovery fund non ci sono ancora dati oggettivi tangibili con mano ma i fondi sono importanti li ho appena letti oggi farò ovviamente il video dopo le dovute considerazioni perché devo approfondire la materia. Per oggi è tutto ragazzi io vi ringrazio di essere stati qui con me scrivetemi nei commenti cosa ne pensate e lo so molti di voi stanno dicendo bitcoin dove allora per bitcoin sto preparando un video apposito un video stra importante sulle altcoin che battono bitcoin lo vedremo in settimana ragazzi datemi il tempo e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto così mi date anche una parola ciao a tutti